perchè mi ha pubblicato senza consenso senza nessun consenso non mi ha censurato la voce non mi ha nemmeno censurato il nome quindi è penibile di denuncia ah il nome non serve per le cose il nome pubblico il nome pubblico ma non c'entra fra sei un coglione cioè cioè non è per il nome pubblico si ma come non è quello si chiama youtube ok dove girano molte più persone di discord quindi è penibile di denuncia anche se è un server pubblico discord ok si passabile di denuncia a parole tu va benissimo comunque tranquillo io non ti ho dato il consenso a mettere né la mia voce né il mio nome quindi comunque anche se è una cosa pubblica tu non la puoi pubblicare su youtube senza consenso vi vediamo tanno ragione è un bambino che non può non potrebbe neanche avere discord oppure ha un po' di persone che hanno fatto un cazzo no non hai fatto un cazzo però mai pubblicato su youtube e in più risultavate pure bravo sei un bambino mi fa veramente pena guarda che può pubblicarlo no non lo può senza consenso senza consenso senza consenso senza consenso no a tutti a altre tutto no a te la giugna no a te una voce io ho in ambiti diversi non in ambiti diversi anche anche nell'ambito che stiamo parlando non no cazzo di sinistri ma dove c'è scritto franata a cercare che ti possano dire un pezzitore domandamelo non te lo vai a cercare per non cercare neanche se c'è uno si che lo so allora e dove non vinti era poi detto te lo vai a cercare dimmi cosa devo cercare sono pronto a scrivere tu cerca cerca quello che ti ho detto io vediamo vediamo cosa esce non è che ho lavorato carai aspetti di scorda ecco vediamo no ma un buonio mi dispiace non ho detto che ho parlato di torna madre adesso vanno a fare una denuncia si vede troppo torna ecco aspetta allora che denuncio si si vede un giorno ora di pranzo così ti vedono ben accolti via la posta no è vero che devi fare la ragazza riposta sei cos'è la polizia postale si sai cos'è si ma tanto non mi fanno un cazzo perché non ho fatto nulla se tu pensi a noi stava poi tutti perciò no 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 forse tu non hai capito o toglie il video o toglie il video o toglie il video e io non lo toglie io non lo toglie 2 se ma non li si hanno ok non lo toglie ok ok non lo toglie non lo toglie non lo toglie non lo toglie ok 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 in due ore massimo l'hai fatta il massimo che può fare proprio il massimo se proprio non va di male che qualcuno gli crede e che cos'è che mi rimuovono il video su youtube come se me ne fottesse qualcosa e poi lui dice cambiare la voce non è che io cambio la voce così dovrei cambiare la voce a tutti ci metto 8 ore a tenere solo la sua voce in un pezzo cambiarla vabbè ritardato di tanto su pubblico pure questo Thomas saluta youtube ciao